... Nasce dall'attività di contrasto all'Andrangheta sulla mezzia terme, ricorderete la settimana scorsa abbiamo colpito il clan Iannazzo, da queste attività svolte dalla procura di Catanzaro con la polizia di Stato di Catanzaro e del servizio centrale operativo ne è venuta fuori una ramificazione che è tipica, come voi sapete, dell'Andrangheta in tanti settori criminali. Oggi questa indagine mette in luce anche una ramificazione purtroppo nel mondo del calcio e dello sport. Sono state arrestate, come sapete, decine di calciatori, di allenatori, di presidenti di società e quant'altro e purtroppo viene fuori uno spaccato brutto nel mondo dello sport dove protagonisti del calcio, anche disattendendo e andando contro le speranze di intere generazioni di giovani che credono ancora nella purezza dello sport manipolando e truccando delle partite a fini di lucro personale o di interessi di gruppi, di associazioni criminali. Lega Dilettanti. Un altro invece è il campionato di Lega Pro. La seconda associazione che muove e ha come promotori soggetti che ruotano con funzioni di dirigenza o di dirigenza amministrativa come Lega Pro è un'associazione anche più importante per il numero di soggetti, rispetto a quella che fa capo al Neapolis, per il numero di soggetti coinvolti e altresì per la pericolosità di alcuni di questi soggetti. In particolare i serbi finanziatori sono soggetti molto pericolosi che sono stati interessati da indagini anche a livello internazionale, nei loro paesi di origine. Non potevamo intervenire prima perché dovevamo attendere che fosse emanata l'ordinanza relativa alla cosca di Annazzo altrimenti avremmo disvelato che c'era una richiesta cautelare in corso. Emessa l'ordinanza, come voi sapete, nei giorni scorsi è decapitata la cosca di Annazzo e siamo riusciti con un provvedimento di fermo che era assolutamente necessitato anche perché i campionati di queste serie devono continuare con i play-off e a noi interessava essere immediatamente presenti e consentire il regolare sorgimento di queste ulteriori competizioni sportive. Noi siamo partiti dall'operazione Andromeda, abbiamo seguito in particolare le intercettazioni telefoniche di Annazzo Pietro ci siamo accorti che aveva degli interessi calcistici, chiamiamoli calcistici fra virgolette, dai suoi contatti con il presidente del Neapolis Calcio, poi siamo arrivati da prima a questa associazione a delinquere che operava prevalentemente nel campionato Lega Nazionale di Lettanti e successivamente attraverso uno sviluppo investigativo e tante altre attività tecniche siamo arrivati a quest'altro gruppo con caratteri di transnazionalità che operava prevalentemente nel campionato di Lega Pro e alterando diverse partite, ne abbiamo, crediamo, dimostrate veramente tante senza distinguere tra il campionato di Lega Pro, Girone A, B o C. Sì, sono due associazioni di delinquere che operavano in diversi campionati ma comunque un unico film conduttore che era quello dell'arricchimento.